ci sono rimaste un po' di cose da fare non tantissime allora per prima cosa prima di passare i problemi di massimo e minimo vincolato in tre dimensioni volevo fare grazie allora io qua ho disegnato le linee di livello immaginiamo fino alle altezze ma non 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 ok poi se vi ricordate una figura del genere l'avevo già disegnata in analisi 2 qua abbiamo un nuovo docente e che una figura del genere potrebbe essere interessante anche per i massimi e minimi di periodo questa è una funzione che supponiamo sia definita su tutto il territorio quindi qui stiamo disegnando soltanto le linee di livello che entrano in questo pezzo del piano da lavare che sta contenuto in un documento allora qui stiamo salendo il livello allora supponiamo che ci siano due alture tipo che ne sono? un decassino e un decassino e un decassino anche se non sono così squilibrato questo è un po' più alto di questo allora che cosa deve succedere? a un certo punto questa linea di livello che rappresenta la vuota si deve dividere in due al minimo perchè ci dovrà essere una linea di livello che gira attorno a un massimo locale e un'altra linea di livello che gira attorno all'alto massimo locale ci sono due massimi locale no? due montagnola e quindi a un certo punto è necessario che ci sia un incrocio di questo genere per esempio questo qua che cos'è? allora quando la linea di livello si riduce a un punto quello è diciamo il punto di massimo in questo caso di massimo che si sta spingendo verso fuote sui livelli anche qua questo è un massimo locale questo invece cos'è? eh guardate basta ragionare come abbiamo fatto l'altra cosa se questa livello è quota 300 anche questa livello di livello è quota 300 di qua vedete di qua e di qua avete quote superiori ma dall'altra parte avete quote inferiore quindi che cos'è? un punto set chiaro? qui è esattamente il punto sella diciamo se voi ricordate il punto sella nel caso del punto sella di x4 la quale la quale la quale il livello corrispondente era proprio due rette che sono testate eh? però quindi adesso se io vado a disegnare un insieme allora andiamo a disegnare pari insiemi qua allora vedete in questo caso il caso bidimensionale è tutto più semplice noi abbiamo il numero di livello facciamo un po' qui facciamo un po' qui allora che le quale di livello spazzano insieme man mano che crescono diciamo che qua da 100 siamo arrivati a 40 le quale da una quale di livello faccio un po' no ma ci saranno 100 eccetera e qua sarà penso mettiamo 250 allora vedete l'insieme che abbiamo disegnato viene letteralmente se io posso disegnare tutte le quale di livello viene letteralmente spazzato alle punte di livello cioè cioè la punta di livello è relativata alla punta più bassa che si trova diciamo che si trova nell'insieme che deve succedere? che questa punta di livello deve essere deve toccare in un solo punto supponendo che ci sia un minimo assoluto insieme giusto? ok se la punta più bassa è 40 che si raggiunge qua allora la linea di livello che rappresenta la punta 40 deve lasciare insieme tutto alla stessa parte c'è cosa da fare? poi poi mano a mano vediamo che saliamo come dipendono stiamo ci stiamo innontrando insieme a un certo punto ci saranno con una punta di livello che lascia insieme di sotto invece che di sotto e quindi diciamo che magari la quota più alta che era il giorno è insieme e la quota 250 in questo caso semplicemente abbiamo un minimo assoluto massimo assoluto e basta non abbiamo altri punti di massimo o di minimo regalizzato se invece l'insieme sta messo qua diciamo sta messo qua che succede? succede benissimo che un massimo assoluto relativo ma anche assoluto sta dentro no? perché può succedere che le curve di livello si vanno a stringere attorno a un massimo che era un massimo locale anche libero no? invece il minimo sta qua perché? perché qua vedete diciamo l'insieme sta dalla parte dove la quota comunque è maggiore di 400 quindi maggiore di 300 quindi il minimo qua è 300 quindi se io avessi disegnato tutte le curve di livello della mia funzione facciamo il caso semplice che la funzione si definita su tutte le due così non o comunque su un aperto contenente il nostro insieme quando voglio disegnare l'insieme è semplice quello che valeva a livello locale vale anche il livello che vale se c'è una curva di livello che lascia l'insieme tutto dalla stessa parte nel senso che l'insieme intensica soltanto il livello di quel livello più basso è chiaramente diciamo i punti dove quella curva di livello tocca l'insieme sono i punti di massimo facile fin quindi naturalmente questo aiuta la lettura però sposta il problema al fatto che bisogna non è bezzinare tutte le punte di livello eh? un'altra question sempre in R2 noi sappiamo che il gradiente in ogni punto e la funzione allora queste qua sono le punte di livello F uguale C gli insiemi che ho cercato in bianco sono gli insiemi sui quali massimizziamo e minimizziamo e sulla parte diciamo delimitata da quegli insiemi noi andiamo a fare il massimo di minimo di F sull'insieme in questione noi sappiamo che il gradiente è sempre ortogonale alle curve ok questo ci può aiutare perché allora supponiamo di avere un insieme fatto così ok e supponiamo che su questo insieme F in D Y X Y sia maggiore di 0 però ogni X è Y appartenente alla questo è T e T è il contenente ok questo cosa ci dice? faccio questo caso semplice per spiegare questo questo ci dice anzi facciamolo insieme ancora più complicato disegniamolo insieme in maniera un pochino diversa ok magari potremmo avere dei pugni angolosi quindi le parametrizzazioni potrebbero essere diverse comunque qui mettiamoci dei pugni angolosi per far capire che qua magari dobbiamo cambiare le parametrizzazioni ok quindi a me questa parte è qua allora allora supponiamo che io voglio trovare il massimo di F solo il massimo non il minimo ok viene detto solo il massimo allora se io voglio trovare il massimo di F su K dove può stare questo massimo di F su K? allora io dico che non può stare dentro e quando dico se fosse nella parte interna di K da parte interna di T un punto di massimo assoluto e deve essere anche di massimo relativo e quindi supponiamo che F sia di classe C1 su A e quindi che cosa deve succedere? deve succedere che il gradiente si deve annullare ma se la derivata parziale rispetto a Y è sempre positiva come si annulla? non si annulla quindi vuol dire che punti di massimo minimo relativo interni non ci sono siamo d'accordo fino a qui? e allora i punti di massimo di minimo devono stare sulla frontiere andiamo a vedere supponiamo che devo trovare soltanto il massimo allora io dico che per quanto riguarda il massimo il massimo lo devo trovare solo devo andare a cercare solo su questo pezzo di frontiere qua ma non qua questo pezzo di frontiere non mi interessa perché è semplice non pensare è quasi complicato allora se la mia funzione ha il gradiente l'altra derivata rispetto a X non la so quindi in realtà il gradiente non lo so soltanto la derivata rispetto a X è così allora mettiamoci in un punto che sta qui se io mi muovo verso l'alto quindi se ho uno spostamento lo spostamento lo faccio in bianco non è vero verso l'alto io so che il gradiente della mia funzione la componente lungo Y è positiva quindi potrebbe fare così però in ogni caso il prodotto scalare è così quindi che vuol dire che se mi sposto verso l'alto la funzione sale del fin de Y ve lo ricordate anche il teorema del link vuol dire che se io mi sposto in verticale se io mi sposto in verticale verso l'alto la funzione sta salendo derivata rispetto a X è positivo quello di me è chiaro? a questo punto che succede? ma vedete che se io mi sposto verso l'alto in tutti questi punti vado a finire dentro l'insieme non fuori questo è l'insieme T ok? e quindi il valore della funzione qua sarà maggiore del valore della funzione qua quindi come fa questo essere un punto di messa? non è possibile cioè è possibile realizzare quello che sto dicendo è possibile realizzare degli spostamenti che vanno verso l'interno di T rispetto ai quali la funzione cresca e quindi non è possibile che questi punti siano punti di massimo potrebbero essere di minimi ma non di massimo quindi i punti di massimo possono stare solo allora se io mi sposto da questa parte qui vedete che vado fuori dell'insieme qua vado fuori dell'insieme qua no perché diciamo la tangente è diventata un vettore normale ha una componente negativa e quindi vedete che quando mi sposto se vado a ingrandire la situazione quando mi sposto verso l'altro vado verso l'interno dell'insieme quindi stesso discorso di qua fino a che non giochi la tangente verticale quindi il vettore normale della normale esterna che va lungo l'asse x allora quando mi sposto verso l'alto diciamo vado fuori dell'insieme qui no quando mi sposto verso l'alto vedete che vado dentro l'insieme quindi tutti questi punti dove quando mi sposto verso l'alto vado dentro l'insieme quando mi sposto nella y spostando con la y va a finire dentro l'insieme tutti questi punti della frontiera io li posso scartare matematicamente se sto studiando il problema di massimo quindi il massimo sta da qua sta sulla frontiera e sta su uno di questi punti quindi se questa qui per esempio fosse stata adesso non lo è perché ho fatto la figura un po' male fosse stata per esempio semplicemente una semplice inconferenza basta andare semplicemente a studiare la funzione su questa semplice conferenza senza studiare se voglio studiare il massimo chiaro? se invece voglio studiare il minimo questi sono proprio i punti dove il minimo non c'è perché naturalmente vale il contrario se mi sposto verso il basso e sto andando verso l'intervenzione chiaro? mentre invece qua no qua se mi sposto verso il basso è sicuramente allora dice questa considerazione ci può essere utile per barco se ci può essere utile perché mettiamo che stavamo studiando il problema di massimo ok? anche evitiamo di parametizzare tutto questo qua ma poi le derivate noi ce le abbiamo due c'è anche una derivata rispetto a x allora se io so anche mettiamo che sappiamo che la derivata di f rispetto a x è in xy è sempre positiva allora posso togliere altri punti quali punti posso togliere? questi qua mi posso togliere perché qua se mi sposto rispetto alla x e verso positivo quindi siamo entro il valore della x il valore della funzione cresce il valore della funzione cresce è un po' chiaro chiaro? però poi questo non si può sapere bisogna andare a vedere il problema per il problema però questo è un altro possibile strumento che ci permette di evitare a seconda del problema che abbiamo a seconda diciamo delle osservazioni che possiamo fare sulle derivate di evitare di parametrizzare se il massimo o il minimo dobbiamo andare a cercare la frontiera di andare a cercarlo solo in certe zone e di evitarne altre perché a più possiamo dire che lì non c'è il massimo oppure il minimo è chiaro? ok andiamo adesso invece a parlare un po' in R3 allora cominciamo con un esempio molto semplice allora io voglio fare voglio studiare il seguente problema abbiamo una funzione f x x z uguale 3x meno 2x più z quindi è una funzione lineare poi andiamo a prendere l'insieme t uguale meno 1 al cubo è un è veramente un cubo questo ma questo è un bel cubo non ho fatto ma non ho fatto non è meno spostare l'asse ho fatto una figura molto applausonativa fatta abbastanza male ho fatto una figura molto applausonativa ma questo è l'asse x l'asse x deve passare per il centro di questo quadrato eh quindi l'asse y l'asse y l'altro ettanico deve essere sollevato quindi deve passare per il centro di questo quadrato e l'asse z invece passa qui al centro di questo quadrato abbiamo il nostro cubetto e ci dobbiamo fare il massimo in questa funzione allora massimo e minimo io voglio fare il risultato del problema di fare il massimo di E su D e il minimo di E ora questo problema è un problema che ci vogliono 3 secondi per esempio mi sapreste dire qual è il punto di massimo e qual è il valore massimo cioè esattamente 3 secondi questo valore massimo è F di 1 meno 1 1 cioè 6 e qui ragionate componenti per componenti questo è compreso tra meno 3 e 3 più di 3 non può valere questo è compreso siccome c'è il meno però anche la x varia tra meno 1 e 1 questa scelta va da 2 a meno 2 però questa scelta è compresa tra meno 2 e 2 al massimo vale 2 e iniziere questo e questa è compresa tra meno 1 e 1 c'è un punto che massimizza tutte e 3? sì perché io posso massimizzare e minimizzare speratamente questo è un punto quindi se io prendo il punto quindi se io prendo il punto 1 meno 1 e 1 ci sta nel punto? sì quindi la prima componente vale 3 per x vale 3 la seconda vale 2 meno 2 per meno 1 fa 2 e la terza vale 1 più di questo la funzione la funzione non può valere è chiaro? vediamo un po' se avete capito con quant'anzo il minimo quanto vale? chiedi f di meno 1 più 1 meno 1 e quanto va? meno 6 lo fa esattamente l'opposto oddio se il cubo fosse stato 0,1 al cubo cambiamo e facciamo 0,1 al cubo cosa cambiamo? il massimo di E F 1 0 1 4 guardate questa è compresa tra 0 e meno 2 questa può solo scendere quindi questa mi conviene chiaramente a me conviene massimizzare o minimizzare ognuna singolarmente essendo su un cubo con i lati con le facce con i lati parallele di assi quindi qua per massimizzare mi conviene prendere 0 poi per massimizzare mi conviene prendere 1 qua per massimizzare mi conviene prendere 2 quindi 3 1 4 e questa la lascio stare a 0 qua verrà invece F di 0 1 0 che verrà meno 2 questo è un caso molto semplice però serve per un po' per fissare la pulite cioè il caso potrebbe essere generalizzato se io ho la funzione è questa F di x1 xn uguale so 1 per i che vada 1 a n di alfa i x xn e a 1 a n e poi supponiamo che t sia agonì bigonì di prodotto per i che vada 1 a n di agonì bigonì la produttore vedete qua da 1 fino a n di a con i bigonì quindi questo è un cubo con il lato parallelità se devo fare il massimo di f su t che devo fare allora questo qua sarà uguale a f supponiamo che io so che alfa 1 è maggiore di 0 alfa 2 è minore di 0 alfa 3 è minore di 0 e ecc 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 alfa è maggiore di 0 il massimo a chi sarà guano a f d allora alfa 1 è maggiore di 0 allora qua devo prendere b con 1 alfa 2 è minore di 0 allora devo prendere a con 2 questo è minore di 0 devo prendere a con 3 e questo devo prendere b con 1 invece il minimo sarà a con 1 b con 1 b con 3 cioè non ho fatto una formula che valesse sempre perché con foto solo avete io devo prendere con coordinata per coordinata la coordinata che mi massimizza il singolo pezzo questa è una somma lineare l'insieme è un cubo ripeto in realtà dall'area degli assi quindi posso agire è come se io agissi indipendentemente quindi se alfa 1 è positivo sull'intervallo a1 b1 a1 b1 a1 è minore di b1 quindi per massimizzare alfa 1 x1 devo stare in b1 per minimizzare dov'è stare in b1 se invece alfa 2 è negativo qua succede il contrario per minimizzare dov'è stare in b2 e per massimizzare dov'è stare in b1 e così via quindi devo mettere la coordinata più grande quando il corrispondente coefficiente è positivo la coordinata è più piccola quando il corrispondente coefficiente è negativo questo è stupido è banale vale solo cioè vale in questo caso non solo in questo caso ci sono altri casi in cui si potrebbe fare qualcosa di simile ma pochi altri cioè qui abbiamo un caso molto particolare abbiamo che questo è un cubo correlato parallelo a Y e questa è una funzione lineare in questa situazione anche anche qua se ci aggiriamo una costante qua basta giurare la costante se abbiamo una generica funzione lineare su un cubo con i lati parallele e gli assi coordinati la massimizzazione o la minimizzazione è banale abbiamo dovuto parlare di massimi e minimi vincolati di parametrizazione di pezzi di frontiera e quant'altro no un cubo allora supponiamo di avere una funzione generica stavolta io ho lo stesso cubo di qui per esempio 0,1 è una funzione F che non so come fa sapete adesso cosa dovrei fare quindi non so più che sia lineare allora io devo fare 1 max e minimi so anche che questa funzione è di classe C1 su tutte le reti quindi è definita su una per anche tutte le reti contiene T però diciamo quindi so che non ha punti problematici allora cosa devo fare prima devo fare massimi e minimi relativi interni a nulla come si fa si studia il credito di questa funzione e si vale delle dosi a nulla se il punto dove si annulla sta in T allora quello è un punto stazionale che sta in T e poi si deve andare a studiare vedere se è un punto di massimo relativo un punto minimo relativo un punto 0 2 punti di massimo e minimo relativo sulle facce quando dico facce significa che un cubo ha 6 facce questa 6 facce ha una valorizzazione facilissima per esempio questa faccia qui z z uguale a 1 questa nella figura era z uguale a meno 1 poi abbiamo modificato il cubo in quel cubo la zona z uguale a z ok però che significa quindi la valorizzazione in questo caso è molto semplice ogni faccia basta imporre una coordinata costante e quindi la funzione diventa di più radiante però quella funzione ti deve andare a fare i punti di massimo di minimo relativo e devi andare a vedere se per esempio un punto di massimo di minimo relativo sulla faccia z uguale a 1 può venire nel punto 3 meno 3 1 mi interessa no perché 3 meno 3 come coordinata di serizia non sta qua dentro però se mi viene un mezzo un mezzo 1 va bene cioè sta all'interno della faccia sta nella faccia anche se sta sulla frontiera della faccia va bene poi 3 massimo e minimo relativi sugli spigoli dopo le facce ci sono gli spigoli ok poi infine 4 valutate f sui vertici allora noi dobbiamo andare a prendere massi minimi latini qua qua e qua poi andiamo a valutare f sui vertici tra tutti questi valori ci uscirà il punto di massima il valore massa e il valore il punto di massima stiamo parlando sempre di massi minimi assoluto capite bene che è un macello attenzione quando io dico massi minimi relativi normalmente si fanno i punti stazionali e basta perché se è solo un numero finito ogni volta chi se ne importa certe volte è più difficile studiare localmente il punto di stazionare per capire se è un massimo o un minimo o un relativo piuttosto che qua mi escono due punti tre punti quattro punti e qua i vertici sono 8 mi picco tutti questi punti mi faccio il valore della funzione vedo quello più grande il valore di massimo assoluto vedo quello più piccolo il valore di massimo assoluto quello che abbiamo fatto noi qua è una abbreviazione allora questi questi e questi ti daranno niente perché ti daranno niente perché allora supponiamo che tutti questi siano diversi da zero allora tu metti delle coordinate costanti quando andai il gradiente sulle restanti coordinate ti farà qualcosa di diverso dal zero perché il gradiente di questa funzione è alfa 1 alfa 2 alfa anche se metti alcune coordinate costanti i gradi della funzione che ti rimane sono quegli alfa con i che ti rimane relative alle coordinate che ti rimane quindi che cosa succede non ci sarà nessun punto di massimo in un relativo interno e dovremo solo valutare la funzione sui vertici allora noi direttamente non solo abbiamo valutato sui vertici ma tra i vertici abbiamo visto che conviene sempre scegliere una delle due coordinate il vertice ha per ogni in quel caso di quel cupo ha per ogni coordinata ha due possibilità infatti i vertici sono due alfa 1 sono 8 se fossimo in dimensione n sarebbero 2 alla m però per ognuna di quelle possibilità ce n'è una che mi fa aumentare il valore della funzione ben precisi allora per ogni i mi vado a scegliere la possibilità che mi fa aumentare il valore della funzione è quello il punto di massimo self lineare self lineare però questo è un caso importante cioè io qua ho fatto il caso semplicemente su questo caso qua generalizzato nel modo più semplice farete un intero corso allora chi si iscriverà in informatica la laurea magistrale farà il corso di ricerca operativa che è devoluto almeno del simplesso cioè radicente delle massime di funzioni lineari su simplesso il simplesso è più generale di questo non è un cubo bello così però un simplesso può essere una piramide può essere un troppo di piramide è definito da disequazioni lineare allora vedrete che quando avrete una funzione lineare a meno che non sia costante e avete un simplesso cioè un insieme definito da un set di disequazioni lineari il massimo non starà mai dentro non può stare dentro ma starà sempre sulla fronte e poi come si farà allora come si farà in generale allora supponiamo di avere una piramide ok allora se ho una funzione lineare su questa piramide come faccio a identificare il punto di massimo allora comincio da un vertice mi muovo sui vertici a 10 e vado a vedere se la funzione sale è uscita allora se la funzione sale cioè mi sposto nel punto dove la funzione sale di più poi mi riprovo a spostare nel punto la funzione sale di più e poi alla fine dopo un certo numero di passaggi trovo in massa ok quindi che succede se su due vertici ho lo stesso valore se la funzione lineare su tutto quel segmento avrà lo stesso valore che succede se su questi tre vertici ho lo stesso valore e su tutta questa faccia avrà lo stesso valore questo può succedere nella funzione lineare altro non può succedere però diciamo esiste un algoritmo che si chiama algoritmo del simplesso che trova facilmente diciamo i punti di massimo e i punti di minimo semplicemente parti da un metice e ti sposti cercando di salire il più possibile poi rifai questo procedimento in un numero finito di passi sicuramente arrivi alla fine il punto è quanti sono questi passi normalmente sono diciamo se le diseguazioni sono n è un numero polinomiale in n non mi ricordo se è n o proporzionale a n addirittura teoricamente potrebbe essere molto di più perché quanti sono questo qua è definito da due n diseguazioni 6 che è 2 per 3 se fossimo in rn sarebbero due n diseguazioni una diseguazione che taglia di sotto una diseguazione che taglia di sopra per ogni coordinata ma i vertici non sono due n sono due alla n quindi teoricamente con quella coentra adesso impresso se io sono sfortunato e mi giro tutti i vertici non è più polinomiale in n ma potrebbe il caso peggiore essere esponenziale in n praticamente questo non succede mai nella pratica però ci sono degli esempi fatti apposta in cui può succedere ma la probabilità che questo succede è praticamente nulla anche se ci sono degli altri metodi poi sono stati scoperti più di recente quando stavo io a fare il dottorato o all'università che sono polinomiali in ogni caso quindi anche lì ci sta tutta una ricerca però il problema non è questo qua il problema è che qui per risolvere questo problema qui non abbiamo dovuto parlare non abbiamo dovuto fare questo schema chiaro questo schema qua però in generale in teoria io lo devo fare perché ci può stare il caso in cui si debba farsi magari il massimo sta su una faccia di T oppure il massimo sta sullo spiccolo ma non su uno dei due vecchi ma sta all'interno diciamo quando io parlo dico all'interno dello spiccolo significa che lo spiccolo viene parametizzato da un segumento che sta in R1 quindi se il punto di parametizzazione sta all'interno del segumento io sono al punto che si trova all'interno dello spiccolo ma no non posso parlare di un punto interno questo è un R3 sono tutti i punti il nostro io ho già tutti i punti di frattere ovvero quindi andiamo a fare lo stesso schema per quanto riguarda per esempio allora io ho una funzione generica F che è di classe C con U su R1 poi ho D che è insieme delle X Y Z da che prendiamo X quadro allora Z quadro è più grande di X quadro più di X quadro e contemporaneamente Z è compreso tra Z ed A allora se ci fate caso questo è un cono circolare retto messo a puntata in giù X Y Z qui siamo nell'origine e qua siamo a Z uguale a questo perché se qui mettete l'uguale questa è una superficie conica perché è una superficie di rotazione appena vedete X quadro più di X è un quadro capito una superficie di rotazione da cosa da Z uguale più o meno X lo fate ruotare intorno all'asse Z e ottenete Z quadro uguale X quadro X quadro dopo la rotazione attorno all'asse Z ok sarebbe Z uguale l'ara più o diciamo più o meno la vertice di questo ok e quindi però io qui sarebbe una doppia superficie conica però ho tagliato tra Z e le talle quindi ho tagliato soltanto il pezzo di cono che sta di sopra siccome le disguaglianze mi dicono che sto diciamo devo prendere tutto questo cuore chiaro? chiaro fino a qui semplice per capire che questo sia un buono ma voi provate a fare le decisioni cioè mettete per esempio Y uguale a 0 che vi viene Y uguale a 0? vi viene valore assoluto di 0 maggiore o uguale valore assoluto di X straitela la radice quadrata che significa stare qua sotto o che stare qua sotto ma poi 0 maggiore o uguale 0 toglie due pezzi di sotto va bene allora una volta identificato l'insieme adesso io voglio fare il massimo faccio solo il massimo tanto che il minimo è la stessa cosa questo scherzo allora quali sono i punti? prima devo fare devo studiare i gradienti di uguale a 0 e X a partire questo come primo trovo i punti stazionali che stanno in diciamo scusate credente di non chiamiamo X perché abbiamo solo ricordiato X Y 0 e facciamo star cioè questo questo sistema deve essere soddisfatto stiamo X Y 0 a partire a T partire a T deve essere soddisfatto secondo prendo G di X Y uguale F X A F X Y A cioè qua il gradiente di G X Y uguale a 0 e X quadro più x meno uguale quindi prima ho trovato i punti stazionali che stanno in T ma dice ma non è la T parte interna no mi viene pure quella sulla frontiera tanto dopo li dovresti andare cioè se il gradiente è nullo sulla frontiera di T in particolare la condizione di massimo e minimo colate o qualunque altro metodo voi vogliate applicare sulla frontiera vi dice che il gradiente deve essere ortoconale al piano tangente alla frontiera se è nullo è ortoconale al piano tangente alla frontiera anche qua questo qua ci dice che il gradiente non ha componenti in questo caso particolari lungo l'asseglie secondo l'asseglie ci dice che è verticale ci dice che è verticale siccome la frontiera di sopra il pezzo di frontiera del centro è orizzontale ci dice che è ortoconale al piano tangente alla frontiera quindi anche se sto sulla circonferenza me lo piglio qua perché me lo dovrei prendere dopo ma è la stessa cosa ok quindi terzo io vado a fare anzi questo due due seconda devo farne sulla superficie di sotto ora la superficie di sotto come la vogliamo parametrizzare ora parametrizziamo oppure facciamo h qua non lo devo so perché non so di f quindi facciamo h di x y z e lambda uguale f x y z più lambda z a 4 meno x a 4 meno x a 4 ok questa equazione qua z a 4 uguale x a 4 più x a 4 mi dice che sto sul peso di superficie laterale allora è uguale alla rientra di h x y z lambda uguale a 0 e z compreso tra 0 cioè dopo aver fatto trovato i punti stazionali della questa superficie libera devo andare a considerare quello là potrebbe avere pur benissimo dei punti stazionali io quando sto imponendo questo non sto imponendo su questo verso di superficie sto imponendo sulla doppia superficie conica infinita una volta che ho trovato un punto stazionario vuoi vedere se appartiene alla superficie del tuo insieme no no e quindi devo imponere questa condizione qua queste due secondi quindi qua l'ho fatto sul pezzo di superficie di sotto e qua l'ho fatto sul pezzo di superficie di sotto punto numero 3 oh questo qua si può fare in maniera alternativa non l'ho fatto perché c'era poco spazio parametrizzando direttamente il pezzo di superficie di sotto quindi in quel caso avrete una funzione di due varianti invece di una funzione di quattro varianti ma punto numero 3 che devo fare? no 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 prima dei vertici vedo qua il vertici c'è sta uno solo l'analogo dello spicolo ma in questo caso chiedo lo spicolo è dove si attaccano le due superficie cioè la circonferenza di sotto allora questo qua lo scrivo in tutte quelle varianti devo fare allora chiamiamo H di T uguale F di A of T A sentì A T a quattro di 0 di 3 e devo fare H' di T uguale a 0 e lo studiamo questi due e poi devo fare anche qua è automatico che ci sono e poi devo fare anche H' di 0 e uguale a H' di T bisogna anche andare a calcolare questo valore perché se sono sfortunato la mia funzione ha esattamente il massimo e il minimo qua io in questo modo e magari la derivata non è 0 in questo modo non lo trovo quindi mi devo andare a fare anche la funzione ai diciamo gli estremi della panorabilizzazione in questo caso siccome la punta è chiusa la valutazione in questo caso ok allora vedete che qua automaticamente Z è uguale a A automaticamente se io faccio S4 più S4 è uguale a Z4 quindi la panorabilizzazione è tale che sto automaticamente su tutte e due queste e uguaglianze quindi quando si ha uno diciamo sostegno di una nuova quando vado a fare l'intersezione tra due superfici cioè quando due disequazioni diventano equazioni prima prima una eseguazione è diventata equazione qui avevamo Z uguale a e qua avevamo Z uguale a x uguale a x uguale a qui invece ne diventano due automaticamente se lo faccio ecco questo è il che non abbiamo visto l'altra scusate che qua ci stiamo rungando ma non è una cosa difficile quindi andiamo leggermente oltre l'una allora se questo punto lo voglio fare con i massimi e minimi vincolati come si fa si fa così si prende h di x y z lambda mu uguale a f di x y z più lambda z quadro meno y quadro più mu z meno a questo è un modo alternativo allora in questo caso devo fare quindi oppure e qua devo andare a fare il gradiente di h in x y 0 lambda in mu uguale al vettore mu e qua non devo verificare niente perché qua la mia intersezione tra queste due è esattamente tutta la curva non è come prima quando qui ponevo questa uguaglianza qua non era tutta la superficie diciamo la superficie del mio laterale del mio buono non era tutta questa superficie perciò devo andare a fare questo controllo qui invece devo trovare solo questi muri stazionati adesso vediamo perché finiamo prima lo schermo 4 devo fare f 0 0 0 0 comunque non vi scordate che ci sta il vertice il vertice sarebbe questo uguale intanzicato questo uguale può capitare può capitare che quando andate intanzicare le due superfici normalmente vi viene in sostegno di una pulpa ma può capitare che la dimensione del genere cioè diciamo intanzicando tutti siccome questo va a tagliare la doppia superficie conica esattamente su quel vertice può capitare che la dimensione scena ma in ogni caso dalla figura sapete che c'è questo vertice quindi questo vertice va considerato a parte chiaro perché è capirci se io vi prendo la funzione z se io vi prendo la funzione z punti stazionali qua mettiamo la funzione x più 300 z perché se no mi viene il punto stazionario nel mezzo ultimo prendiamo la funzione z gradiente fa 0 0 1 ma non è mai z poi la funzione vabbè sopra trovate il massimo ma non trovate il minimo quando andate a fare i diciamo punti stazionali sulla superficie laterale non ci sono perché se vedete sulla superficie laterale se voi vi spostate da questa parte la z aumenta sopra ripeto ci sta il massimo della z anche quale a e quindi è il minimo da dove esce dovete per forza andare a calcolare la funzione qua perché quella è come se fosse un'attaccatura di superficie eccetera ma che comunque deve essere fatta a parte perché noi quando facevamo separatamente il discorso qua o qua non trovavamo punti stazionali sull'attaccatura delle due superficie chiaro? e quindi bisogna andare a fare parte quindi bisogna fare prima il problema tridimensionale poi il problema sulle parti bidimensionali della della frontina poi il problema sulle parti unidimensionali della frontina poi il problema sono le parti zero dimensionali della frontina quindi mentalmente dovete dividere la vostra frontina in come fa quando fanno l'esplosione nei disegni di meccanica allora c'avete la parte interna del topo poi avete la superficie superiore e la superficie laterale poi avete la circonferenza dove si attacca la superficie la base superiore alla superficie laterale e poi avete il bel cesto chiaro? ok c'è rimasto l'unico punto da chiarire questo lo chiedisco direttamente nell'esempio non mi metto neanche a fare il caso generale deve essere però chiaro un esempio cosa succede quando io vado a fare il gradiente di questa h qua vabbè questa h qua non è la stessa del esempio allora noi abbiamo h x y 0 lambda e mu questa qua allora quando vado a fare il gradiente di x y z poi mi viene il gradiente di f quello lo chiamo gradiente poi le derivate rispetto a lambda rispetto a mu le metto a parte mi viene più lambda meno 2 x meno 2y meno 2 2z più mu 0 0 1 uguale a 0 ho fatto il gradiente vedete ho fatto il gradiente di questa meno 2x meno 2y più z che le derivate 0 0 queste sono le prime equazioni poi abbiamo dh in d lambda che abbiamo z al quadro meno x al quadro meno y al quadro uguale a 0 e poi dh in dm z al meno a 4 allora vedete le ultime due equazioni questo è il gradiente di f in x y ovviamente è di f quindi vedete le ultime due equazioni mi danno l'appartenenza al vincolo adesso andate a guardare le prime tre equazioni le prime tre equazioni quando c'era un solo parametro queste qua cosa mi dicevano? chi era questo vettore qua? questo era il gradiente di questa funzione ma in r3 quella che diciamo ci interessa è z al quadro uguale a x al quadro più y al quadro cioè la superficie di livello di questa funzione quindi questo gradiente com'è rispetto alla superficie di livello? non passiamo di livello perché siamo in dimensione 3 quindi l'insieme di livello di una funzione non è più una vulva sostiene una vulva ma è una superficie cosa sarà però? se qua una funzione è costante il gradiente di f sarà ortogonale no? ortogonale a chi? vi fate la parametrazione di questa come superficie andate a fare fi u fi v andate a fare fi esterno fi v e trovate che è gradiente esattamente parallelo a fi esterno fi v chiaro? quindi questo ci dice questo è il coettore questo è normale alla superficie laterale questo chi è? vedete 0,0,1 chi è? è normale rispetto alla base superiore questo è normale rispetto alla base superiore allora cosa vi dice questo? ma se vi porto questo dall'altra parte questo è meno lambda meno mu cioè che cosa ho scritto? che il gradiente è una combinazione lineare è una combinazione lineare di questi due vettori allora il primo vettore era normale rispetto allora prendiamo un punto per esempio qua allora il primo vettore è normale rispetto alla superficie cioè qua dovrei fare il piano d'argento è normale rispetto a questo il secondo vettore è 0,0,1 questi due vettori cosa generano? generano un piano questo piano com'è? è ortogonale se andate a calcolare il versore o il vettore tangente fate una parametrizzazione della punta come in questo caso se andate a calcolare il vettore tangente questo vettore tangente è ortogonale rispetto per quale motivo questo qua sta diciamo sta per piccoli spostamenti su tutte e due le superfici stando su tutte e due le superfici allora vedete se io mi sposto di poco rimango quasi sulla circonferenza allora rimanendo quasi sulla circonferenza sto sia sulla base superiore sia sulla superficie laterale laterale allora deve essere ortogonale sia a questo che a questo perché se diciamo gli spostamenti sulla superficie i piccoli spostamenti sulla superficie laterale sono ortogonali a questo vettore i piccoli spostamenti sulla base superiore sono ortogonali a questo vettore e quindi questo deve essere ortogonale tra quindi questa condizione cosa mi dice? mi dice che io che questo gradiente di F è ortogonale a ciò a cui deve essere ortogonale cioè quello che non andiamo a definire ma sarà lo spazio tangente a questa a questa qui come sostenibile come è curva chiaro? diciamo io devo interpretare questa attaccatura delle due superfici come sostenibile una curva me la devo parametizzare nel momento in cui me la paralizzo la curva avrà un flessore tangente quindi il flessore tangente mi definisce una retta che è la retta tangente alla sostenibile la curva in quel punto nel momento in cui ho questo vettore io devo andare a controllare che il gradiente sia di F sia ortogonale a questo vettore perché deve essere ortogonale? sempre per il discorso che sempre per la formula di F F di X X non Z deve essere uguale a F di X con 0 X con 0 Z con 0 più gradiente di F di X con 0 Y con 0 Z con 0 scalato X meno X con 0 X con 0 Z meno 0 più termini di ordine superiore o un piccolo di norma X meno X con 0 X meno X con 0 Z qua usando le tre coordinate chiaramente è tutto scritto in maniera più complicata se usavamo la sua X come vettore di coordinate F di X meno più è uguale F di X con 0 più gradiente di F di X con 0 scalato X con 0 spostamento più termini di ordine superiore alla norma di X con 0 allora questo pezzo lineare se voi volete un incremento dovete sempre pretendere che questo pezzo lineare vi dia una quantità positiva se questo pezzo lineare vi dia una quantità positiva quello non è non può essere un punto di massimo un punto di minimo che vuol dire che se vi spostate dalla parte dell'incremento la funzione aumenta se vi spostate dalla parte opposta la funzione scende anche se questo vi da una componente negativa è uguale basta semplicemente invertire il ragionamento dalla parte dello spostamento la funzione scende dalla parte opposta la funzione sana quindi se il gradiente non è ortogonale allo spostamento non può essere mai un punto di massimo di minimo allora per il gradiente per essere ortogonale allo spostamento a chi deve essere ortogonale al versore tangente perché per piccoli spostamenti lo spostamento si confonde almeno di termini di ordine superiore con il versore tangente e questa condizione automaticamente vi da l'ortogonalità al versore tangente quindi l'ho spiegato con un esempio non lo faccio nel caso generale perché una volta capito l'avete capito quindi è inutile complicare cose semplici per automaticamente forzare la condizione di ortogonalità allo spazio tangente del mio pezzo di superficie qualunque sia il caso dimensionante cosa devo fare? Devo mettere un moltiplicatore di Lagrange per ogni equazione l'esequazione che diventa equa equazione ovviamente siamo nel caso tridimensionale al massimo ne ho due perché se ne ho tre in genere la terza tre superficie si inderse in un punto oppure se posso il numero finito dei punti oppure in zero a meno che in caso di genere ok quindi qua però prima sulle superficie vedete ho un moltiplicatore di Lagrange anche in questo caso posso farlo con un moltiplicatore di Lagrange vedete qua invece che è unidimensionale e si attacca a due superfici ci vogliono due moltiplicatori Lagrange uno e qua ci metto la prima equazione quello che è uguale a zero mi definisce la prima superficie più un altro e qua ci metto z meno a che mi definisce uguale a zero mi definisce la seconda superficie e poi vado a studiare sempre i punti di massimo e minimo libero su questa funzione però attenzione se le altre disequazioni questo comunque vi da per esempio mettiamo che questa era una retta intersezione di due piani se sulla mia retta per esempio nel cubo c'è uno spicolo e lo spicolo non è tutta la retta quindi se la superficie o la curva che viene fuori da questo discorso è più grande del pezzo che sta sulla mia figura io devo poi comunque dare a controllare che in questo punto verifichi tutte le altre disequazioni diciamo tutto questo va capito una volta che va capito nei casi concreti è facile di facile applicazione perché alla fine lo schema non era infinito molti pezzi non li devi fare perché magari la funzione è particolare quindi molti pezzi diciamo di questo schema li puoi saltare perché li sono banali e quindi poi alla fine l'esercizio si fa il problema è che se io devo scrivere nella completezza di tutte le giornate diciamo devo scrivere così la funzione è una sola chiaro? va bene quindi questo per quanto riguarda i problemi di massimo e di minimo adesso facciamo una pausa è un'esercizio Grazie a tutti